Allora, buongiorno e benvenuti a tutti e a questo incontro in cui siamo ospiti degli spazi reali e virtuali del Galdi Village per parlare e presentare un progetto molto importante che è il progetto Girls Code It Better. Io sono Patrizia Daneluzzo, mi occupo da vent'anni di pari opportunità e politiche di genere e sono stata con piacere invitata a moderare questo incontro. Con me ci sono altre tre persone, Antonella Candiotto, titolare di Galdi, Costanza Turrini, ideatrice e project manager del progetto Girls Code It Better e Jessica Redeghieri, coordinatrice scolastica del progetto Girls Code It Better. Girls Code It Better è un progetto, dicevo prima, importante perché si propone di fare la sua parte nell'affrontare una questione che è complessa e annosa, che è quella della parità di genere, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra le donne e le tecnologie digitali, quindi il cosiddetto gender digital divide, quello che divide appunto i due generi nel rispetto all'utilizzo delle tecnologie digitali. È complessa e annosa perché è una questione più in generale, quella della pari opportunità, in particolare quella della pari opportunità nelle tecnologie, che si tenta di risolvere da anni, si tenta di appianare da anni, eppure nessuno è ancora riuscito in realtà a farlo, almeno in Italia, insomma siamo molto indietro nei risultati su questo tema. Ed è una questione che purtroppo a volte si sottovaluta e in realtà incide su tutto l'arco della vita delle donne. Perché? Perché questa distanza tra donne e tecnologia nasce nelle ragazzine e bambine giovanissime ancora con uno stereotipo di genere che nel 2022 le vuole meno inclini, meno portate dei colleghi maschi e dei compagni maschi per le materie che sono tecniche, scientifiche, tecnologiche e informatiche. E sono stereotipi che, ripeto, abbiamo tuttora oggi. Questo incide nelle loro scelte scolastiche che le portano quindi lontano da quelli che si chiamano percorsi STEM, quindi materie appunto scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche, e questo poi si riversa nel mondo del lavoro in una segregazione orizzontale che si unisce alla segregazione verticale. Quindi parliamo di segregazione verticale quando vogliamo dire che le donne fanno fatica a raggiungere i vertici nel mondo del lavoro, a questa si unisce una segregazione orizzontale. Cioè le donne primariamente si occupano di alcuni settori e non altri. Sono i settori più distanti da quelli tecnologici e meno remunerativi alla fine. Quindi se vogliamo questo incide anche sulla pensione, se proprio vogliamo chiudere il cerchio. Giscodil Beta si propone appunto di incidere su questo tema con una formula che tutto sommato è semplice perché si tratta di proporre dei laboratori alle ragazzine delle scuole, ma è interessante perché da una parte è innovativo sul lato dei contenuti, quindi si tratta di mettere a disposizione e far imparare alle ragazzine le tecnologie digitali e anche di ultima generazione e dall'altra con una formula che è sempre valida ma sempre troppo poco usata che è quella della rete territoriale, della rete pubblico privato e dell'attivare un intero territorio su questo tema perché ognuno può incidere o sugli stereotipi o sulla scelta delle scuole o sulla scelta lavorativa. Quindi proprio per questo le persone che sono qua oggi rappresentano queste tre gambe su cui si muove il progetto, Antonella Candiotto a cui tra pochissimo darò la parola il mondo delle imprese, il mondo del lavoro, Costanzo Turini il mondo del terzo settore perché a portare avanti il progetto è una fondazione che è la Fondazione Officina Futuro e Jessica Redeghieri per quello che riguarda il pubblico e in questo caso specifico le scuole. Quindi detto questo lascio la parola ad Antonella che ci spiegherà, oltre a portare un saluto ovviamente in quanto ospite, ci spiegherà magari perché per lei è stato così importante questo progetto da voler investire nel dare questa opportunità al suo territorio e quali sono i bisogni che Galdi vede potrebbero essere in qualche modo affrontati, risolti, aiutati dalla attivazione nel territorio del progetto Girls Coded Better. Bene, grazie Patrizia per l'introduzione. Do il benvenuto a tutti, mi chiamo Antonella Candiotto e sono un'imprenditrice, sono presidente di Galdi. Galdi è un'azienda che produce tecnologia, produce macchine per il confezionamento di packaging alimentari, quindi il settore alimentare, noi però siamo un'azienda metalmeccanica, quindi siamo un'azienda che costruisce, che progetta, che applica queste competenze proprio nei nostri prodotti. Una delle particolarità di questo contesto, in particolare di Galdi, da quando sono entrate in azienda, è stata proprio quella di provare a colmare questo gap di cui parlava Patrizia prima, di aumentare il numero di donne, soprattutto nei reparti, negli ambiti di responsabilità, principalmente i tecnici, dove era comunque difficile, è comunque difficile trovare delle candidate donne. Quindi ho anche provato a sensibilizzare l'opinione pubblica con qualche comunicazione nell'ottica proprio di attrarre anche questi talenti e di aumentare quella che è la differenza di genere all'interno di contesti come ad esempio l'ufficio sviluppo prodotto, dove ci sono ingegneri, dove ci sono persone che si occupano di sviluppo software, di intelligenza artificiale, di competenze tipicamente STEM. E ho riscontrato comunque delle difficoltà, perché qualche figura si è candidata, però comunque diciamo poche figure, ecco, che comunque provengono da grandi contesti, da grandi aziende. Quindi l'esperienza che ho provato è quella che comunque ci sono donne in questi ambiti con livelli di responsabilità anche elevati, però lavorano principalmente in contesti meglio grandi. Quindi la riflessione che ho fatto, e ho avuto l'occasione di farla grazie alla partecipazione di Digital Meet, io ho la fortuna di essere nel comitato scientifico di Digital Meet, che è questo festival del digitale che viene fatto una volta all'anno a ottobre, e ho avuto l'occasione di conoscere Costanza Turrini, di conoscere questa squadra che mi ha molto colpito, ecco, mi ha molto colpito per la motivazione, per la passione, per la competenza che mettono nel realizzare dei progetti con le scuole, che sono dei progetti trasversali con tutti i tipi di scuola, quindi non solo con le scuole tecniche, ma anche con le scuole ad indirizzo umanistico, nell'ottica di far toccare con mano anche alle ragazze che cosa significa STEM, e quindi di limitare il pregiudizio, cioè di trovare un sistema per far capire che non esiste un genere che ha più attitudini alle STEM, ma che tutti i generi possono affrontare questo tipo di materia e che lavorare in quell'ambito può essere divertente, bello, può dare soddisfazione, può anche spingere una carriera e può dare anche tutta una serie di garanzie e tutele che si hanno quando si lavora in un'azienda, si ha un contratto a tempo indeterminato, si ha un determinato ruolo, e quindi sì, mi sono detta perché no, cioè ci sono aziende che investono che hanno il coraggio di sostenere queste iniziative, magari non solo di parlarne, ma anche proprio di fare qualcosa concretamente che possa sostenerle, che possa aiutarle a farsi conoscere, perché poi è anche una questione proprio di diffusione, di conoscenza, come l'esperienza di cui vi dicevo prima, quell'uscita sul giornale, che comunque nel suo piccolo ha avuto un impatto. La stessa cosa vorremmo fare sostenendo, promuovendo questa iniziativa, cioè vorremmo aiutare l'iniziativa ad avere visibilità nell'ottica proprio di far capire che le materie STEM sono delle materie che vanno coltivate e che vanno diffuse, promosse, proprio perché offrono molte opportunità. Quindi insomma abbiamo deciso, io ho un gruppo all'interno dell'azienda con la quale condivido anche un po' le iniziative da sostenere, abbiamo deciso di sostenere il Girls Code It Better, siamo molto felici di farlo e saremo felici anche proprio di aiutare concretamente con la realizzazione dei progetti nell'ottica di diffondere questa cultura, di far capire che questo stereotipo, questo inghippo accade in età molto giovane, accade sui sei anni, quando le bambine fanno le elementari ancora, dove si attiva questo pregiudizio, no ma i maschi sono più bravi in matematica, le femmine sono più bravi in italiano e quindi vorremmo eliminare questo stereotipo e vorremmo offrire opportunità a tutti per crescere, per crearsi una carriera e per creare sostanzialmente un territorio che sia anche economicamente più ricco e che abbia esperienze da offrire e di valore insomma a tutte le persone, in particolare in questo caso alle ragazze. Quindi io ringrazio tantissimo, intanto Patrizia perché comunque ha una competenza importantissima nella gestione della diversità, quindi nel diversity management che è un qualcosa di estremamente utile e positivo alle aziende, perché le aziende per fare innovazione devono riuscire a creare inclusione, diversità, perché è proprio dalla condivisione delle esperienze, dalla diversità delle esperienze che si crea un contesto creativo che favorisce l'innovazione e l'innovazione sostiene la competitività delle imprese, le imprese per essere competitive devono innovare, devono proporre prodotti e servizi diversi e quindi la diversità serve a rendere le aziende più competitive. E poi ringrazio Costanza e Jessica perché con il loro entusiasmo, con la loro passione, ma soprattutto con la loro competenza, sono in grado di convincere chiunque. Ecco, chiunque entra in contatto con Girls Code It Better verrà contagiato e verrà convinto a seguire questo progetto. Perciò lascio la parola a loro, vi ringrazio per l'attenzione e buona continuazione. Grazie, grazie Antonella per l'entusiasmo anche tuo che traspare da questo intervento. Antonella sicuramente ha detto due cose interessanti che voglio riprendere. Uno, la questione della carriera dei contratti a tempo indeterminato, perché quando intendiamo entrare nel mondo del lavoro e anche questa è una questione che fa molta differenza tra maschi e femmine, se dopo la prima ondata di Covid tre persone su quattro delle persone licenziate sono state donne perché hanno contratti mediamente che le tutelano di meno. Quindi non si tratta solo di entrare nel mondo del lavoro, ma anche di entrarci con una serie di diritti che ci possono permettere di avere una certa tranquillità. E l'altra cosa è il discorso del diversity. Non si tratta solo di avere donne e uomini per essere pari, ma proprio perché la diversità di punti di vista, la diversità culturale, di mindset, di inclinazioni, sensibilità che ci può essere tra maschi e femmine, oltre che tra ogni persona in modo diverso, porta effettivamente, e ci sono studi che lo dimostrano, una maggiore innovazione e quindi competitività aziendale. Tra l'altro volevo dire che è da poco uscita la classifica sulla qualità della vita nelle province italiane 2022, quindi con i dati 2021, e c'è un nuovo indice che è qualità della vita delle donne. Un indice che si basa su 12 indicatori, tra cui gap salariale di genere, disoccupazione femminile, servizi all'infanzia ed altri, e pensate che Treviso è il primo posto a livello nazionale. Quindi diciamo che siamo già in un territorio fertile, questo ovviamente non è una scusa per fermarsi, ma anzi per approfittare di un territorio che è già di suo magari frizzante, attento da questo punto di vista, per proprio seminare per le ragazze di domani, perché si sta un attimo dal primo posto a tornare indietro. Quindi grazie ancora Antonella, passo la parola a Costanza Turrini, ideatrice e appunto project manager del progetto Girls Code Read Better, a cui chiedo quindi di raccontarci come è nato questo progetto, con quali propositi, quale e quanta strada ha fatto, quali sono i risultati e se vuole anche quali le criticità che un contesto come quello di oggi possono magari aiutare ad affrontare. Grazie, grazie Patrizia, grazie Antonella. Evidentemente Girls Code Read Better è contagioso perché l'energia è sempre molto alta quando parliamo di questo progetto. Girls Code Read Better è un progetto che è nato otto anni fa, otto anni scolastici fa e otto anni fa eravamo su dieci scuole, dieci scuole secondarie di primo grado. Quest'anno siamo in 81 scuole, secondarie di primo e secondo grado e il prossimo anno l'obiettivo è quello di essere in 150 scuole su tutte le regioni d'Italia e quindi visto che Trediso è una città, è un territorio molto fertile per quanto riguarda il benessere delle donne, facciamo in modo di avere più scuole, visto che il nostro pubblico qua è di insegnanti, facciamo in modo che più scuole possano partecipare a Girls Code Read Better. Noi sappiamo da delle ricerche che, come hanno detto prima sia Patrizia sia Antonella, molto presto gli studenti e le studentesse modellano l'idea che il talento sia una qualità maschile e lo fanno già verso la fine delle scuole primarie, delle elementari. Noi infatti abbiamo iniziato a fare questi club, i nostri laboratori in realtà si chiamano club, club di creatività digitale e imprenditorialità e li facciamo, abbiamo iniziato con le scuole secondarie di primo grado proprio perché lì troviamo ancora tutte le ragazze. Prima della scelta che noi in realtà non orientiamo verso una scuola o un'altra, il nostro obiettivo è quello di far sperimentare a tutte il digitale come strumento per la realizzazione di prodotti ma soprattutto come strumento di risoluzione di problemi. Quindi il nostro obiettivo è quello di avvicinare le ragazze alla creatività digitale quando è ancora c'è possibilità di far capire loro che è trasversale a qualsiasi scelta faranno in futuro, che sia una scelta di una scuola in dirizzo umanistico o scientifico il digitale non può più essere un buon utilizzo di uno smartphone ma dobbiamo conoscerne i linguaggi, dobbiamo conoscerne le logiche e dobbiamo davvero conoscere meglio che cosa succede quando noi siamo online ma anche che cosa possiamo farci perché è estremamente creativo e molto divertente. Sappiamo che le ragazze sono il 60 per cento dei laureati in Italia, in un paese dove i laureati sono pochi i dati continuano a dire che le ragazze si laureano prima dei maschi con voti più alti, i voti più alti ce li hanno anche nel diploma, quindi le ragazze sono brave. Continuiamo però davvero a concorrere con metà della squadra e soprattutto teniamo fuori la squadra che è probabilmente vincente, questo non è molto efficiente. Dobbiamo riuscire davvero a fare un'inversione di tendenza in questo senso anche perché portare più ragazze al digitale, più ragazze all'innovazione migliora l'innovazione come diceva Patrizia prima, sicuramente c'è più possibilità di crescere ma soprattutto è imprescindibile, non deve più essere una scelta, deve essere che tutte le ragazze si avvicinano e comincino ad affrontare quanto è divertente il digitale, quanto possono creare poi in futuro, in prospettiva sappiamo che è anche estremamente liberante, cioè poter lavorare sul digitale vuol dire poter lavorare ovunque, in qualsiasi momento e quindi sicuramente anche per il futuro lavorativo delle donne potrà essere molto utile. Quindi noi abbiamo attivato adesso ormai da qualche giorno, dall'11 abbiamo aperto questa call per trovare le nuove scuole che parteciperanno il prossimo anno e questo evento di oggi per noi è molto importante perché dalla prima volta che abbiamo parlato con Antonella e quindi con Galdi abbiamo capito che c'è terreno fertile per cominciare a progettare insieme, cioè vogliamo progettare sul territorio dei possibili percorsi che siano adatti al territorio, quindi alle scuole che si candideranno adatti anche alla connessione tra scuola e lavoro, perché quando parliamo di scuole superiori che fanno Girls Code It Better è un percorso di PCTO, quindi un'alternanza scuola-lavoro estremamente coerente sia col mondo della scuola sia col mondo del lavoro. Quindi quando ne abbiamo parlato con Antonella e subito ci siamo trovate d'accordo nel fatto che dovevamo cominciare a fare qualche cosa insieme, fare qualcosa di più per il territorio e poi andremo a progettare insieme che cosa. La cosa che mi interessa, al quale tengo molto è il fatto di le candidature chiudono il 23 di aprile, quindi le scuole che sono adesso qua e ci ascoltano, se interessate si possono candidare sul sito. Io comunque Patrizia, dopo questa introduzione ti rilascio la palla per introdurre poi tu Jessica che è lei, che è la persona che coordina per Girls Code It Better tutte le scuole d'Italia e quindi saprà dare ancora più risposte alle spero domande che ci siano dalle scuole che partecipano oggi. Grazie, grazie mille. A me piace molto questa definizione di Girls Code It Better come club di creatività digitale e imprenditorialità. Io mi ricordo dall'altra volta che ci abbiamo parlato perché c'è anche questo aspetto di imprenditorialità ma magari è una delle cose che Jessica ci spiega perché è un progetto in realtà più complesso di quello che sembra. Jessica Redeghieri si occupa di tecnologie digitali da tantissimi anni per passione, ha un canale YouTube che ha circa 60.000 iscritti, sono andata a vederlo, per parlare di queste cose ma soprattutto per traghettarle all'interno di un contesto estremamente fertile che può essere e che deve essere estremamente fertile che è quello scolastico. Quindi lascio a lei la parola per spiegarci nell'operatività cosa succede, come si entra nelle scuole perché è importante che sempre più scuole partecipino. Perfetto, grazie mille a tutti. Sono molto contenta di essere qua, spero che dopo ci siano tante domande così possiamo anche interagire e possiamo rispondere alle vostre curiosità. Allora, Costanza e Patrizia prima abbiamo parlato di club, di creatività digitale e imprenditorialità. Intanto diciamo che per noi la creatività digitale è tutto quello che ci aiuta a produrre un prodotto o un servizio che aiuta le ragazze a produrre un prodotto o un servizio e a realizzarlo e tra i mezzi che ci aiutano a creare questo prodotto o servizio ci sono anche le tecnologie. Le tecnologie che sono quelle più tradizionali ci sono anche le tecnologie innovative. Probabilmente senz'altro avete ormai sentito parlare di stampa 3D, di elettronica, automazione, prototipazione. Sono tante le tecnologie che possono essere inserite all'interno di un percorso di realizzazione nei club Girls Coded Better. Dipende tutto dall'idea iniziale ed è qua che mi aggancio alla seconda parte del nostro sottotitolo che è imprenditorialità, creatività digitale e imprenditorialità. Cosa succede nei club? Così ve lo spiego in modo pratico. I club sono formati intanto da 20 ragazze. Assieme alle 20 ragazze ci sono sempre due adulti che sono un coach docente o una coach docente. Devo anche imparare a cominciare con il femminile in realtà. Quindi una docente, un docente interno alla scuola che porta le proprie competenze educative di gestione dei gruppi didattiche all'interno del club. E poi assieme in compresenza e questo è senz'altro un punto di forza di Girls Coded Better perché il club diventa un ambiente privilegiato rispetto alle ore del mattino come le chiamiamo con le ragazze perché ci sono sempre due persone in compresenza. Non è così semplice, è abbastanza rare che succede al mattino. Il nostro secondo adulto è un coach maker o una coach maker, cioè quelle persone che per esperienza e per formazione solitamente sono competenti, sono esperte nell'ambito tecnologico e soprattutto di tecnologie creative come vi anticipavo prima. Tutta una gamma di tecnologie creative, quindi ci sono diverse professionalità che noi inseriamo sotto al cappello di coach maker e coach docente e coach maker collaborano sempre assieme. Il loro ruolo è quello di sostenere le ragazze, sono facilitatori, quindi sostengono il percorso delle ragazze che è un percorso creativo. Coach docente e coach maker assieme a Girls Coded Better, poi adesso non mi inoltre in realtà nei dettagli, ma ci sono figure che sostengono anche il coach maker e il coach docente, decidono un tema, un problema che deve essere un problema autentico che riguarda la scuola, riguarda il territorio più o meno ampio, quindi può essere il paese, la città, la regione o la nazione intera e propongono questo tema alle ragazze. Le ragazze hanno come sfida, ed è per questo che ci avviciniamo all'imprenditorialità, quella di creare prima ideare, poi progettare, poi realizzare un prodotto o un servizio che risolva questo problema, ma come vi dicevo un problema reale, quindi poi metteranno anche in pratica e metteranno alla prova anche questo prodotto e servizio che andranno a realizzare. Quindi il nostro scopo è quello di arrivare ad una soluzione, che le ragazze realizzino una soluzione per il tema iniziale, non che imparino ad utilizzare delle tecnologie. Questo lo fanno, quindi imparano ad utilizzare la stampante 3D, la macchina taglio laser, a creare le applicazioni, a creare i siti, ma come mezzo per arrivare ad una realizzazione finale, quindi alla creazione del loro prodotto e del loro servizio, ed è per questo che appunto il club si avvicina, anzi ricalca quasi del tutto quello che succede all'interno di un processo imprenditoriale. Come vi dicevo, coach docente e coachmaker, che sono i nostri facilitatori all'interno del club, sostengono appunto questo percorso. Una cosa molto importante a cui teniamo moltissimo è che coach docente e coachmaker tutti insieme, quindi dal Veneto fino alla Sicilia all'inizio, quindi prima ancora dell'inizio dei club, vengono formati. Quindi noi all'interno delle scuole diamo una formazione di 10 che in realtà diventano 15 durante tutto il percorso, ore di formazione sull'impianto. Il nostro impianto, forse l'avrete capito mentre lo descrivevo, descrivevo le varie fasi, è un impianto che si basa sull'apprendimento per problemi e progetti. Ci sono alcune scuole che stanno già realizzando alcune attività che utilizzano queste strategie e quindi per loro è un mettere alla prova quello che hanno studiato e quello che hanno imparato e lo mettono alla prova anche in un ambiente, come vi dicevo, privilegiato soprattutto per la compresenza al pomeriggio all'interno del club. Ci sono alcune scuole invece che non hanno ancora sperimentato questo tipo di strategia, quindi la formazione ci serve anche per portare all'interno della scuola un seme rispetto a queste strategie innovative, quindi non sono soltanto le tecnologie innovative ma anche le strategie didattiche. Negli anni si sono sviluppati tantissimi di questi semi perché molte scuole in realtà hanno cominciato ad approfondire queste strategie innovative, hanno iniziato progetti anche magari paralleli o successivi a Girls Could It Better che potevano coinvolgere anche i ragazzi ovviamente e noi siamo molto felici di questo perché le ragazze di Girls Could It Better diventano delle role model per i loro compagni maschi che si incuriosiscono, vengono all'evento finale, guardano cosa hanno fatto e vogliono riproporlo e poi tanti progetti appunto diciamo così fratelli se non figli di Girls Could It Better nascono all'interno delle scuole. Un'altra cosa importante che vi citavo prima quando vi parlavo del tema, del problema è che appunto il tema deve essere reale e molto spesso ricade ovviamente, riguarda la scuola ma soprattutto il territorio. Noi teniamo tantissimo al collegamento con il territorio e teniamo moltissimo che le scuole si aprano, magari lo fanno già però soprattutto con Girls Could It Better si aprano al territorio perché le ragazze sono prima di tutto cittadine anche se sono piccole, se non sono ancora adulte e quindi cominciano attraverso queste attività anche a conoscere magari con occhi diversi e guardare con occhi diversi il loro territorio, a scoprire magari che ci sono dei fab lab che loro non conoscevano che potranno poi frequentare, dei maker space, dei luoghi creativi che potranno frequentare anche oltre la scuola. E la scuola dal canto suo ovviamente riesce ad entrare in contatto con una serie di professionisti anche del territorio che non avevano nessun collegamento prima con la scuola. Appunto come vi dicevo prima sono tantissimi i percorsi che sono nati dopo con il semino di Girls Could It Better, sono tantissime le relazioni che si sono consolidate anche dopo Girls Could It Better, tantissimi maker e tantissime maker sono adesso all'interno delle scuole come esperte e come esperti ma tantissimi in realtà hanno cominciato anche il percorso educational proprio come insegnanti, come educatori perché si sono appassionati e tanti e tante cos docenti sono diventate in realtà delle maker e dei maker perché si sono appassionati e c'è stata una contaminazione, è un po' brutta questa parola nell'ultimo periodo però probabilmente rende l'idea perché si parte con un docente, con un maker e in realtà poi si arriva con due figure che sono un po' ibride perché si contaminano tra di loro e adulti imparano dall'altro, quindi dall'altro adulto ma soprattutto imparano dalle ragazze perché quello che succede spesso è che le ragazze insegnano agli adulti perché gli adulti le possono osservare nel loro percorso di apprendimento e di realizzazione. Quindi probabilmente il nostro obiettivo è che Girls Could It Better tra una decina di anni non serva più in realtà perché significa che le ragazze si sentono libere. Adesso ancora questa libertà in realtà non c'è quindi cerchiamo appunto di seminare all'interno delle scuole dove ci sono delle scuole che sono aperte a queste contaminazioni, si lavora sempre molto bene e quando c'è l'entusiasmo sia dei dirigenti che degli insegnanti e nascono veramente dei frutti e delle foglie del nostro seme che sono sempre molto molto belle oltre ad un sacco di amicizie, questo lo posso dire perché c'è sempre una bella community di Girls Could It Better anche di chi esce, di chi entra e ci sono ragazze che continuano dall'essere Girls, diventano Maker e continuano l'amicizia con noi, con gli altri Maker e con gli altri docenti. Quindi c'è sempre tanto entusiasmo. Ecco, questo è un po' quello che succede all'interno delle scuole. Sarebbe bello entrare all'interno. Ho cercato di darvi un po' uno spunto, ecco, di una descrizione anche senza vedere quello che succede. Posso aggiungere una cosa? I club durano nelle scuole secondarie di primo grado 45 ore. Quindi insieme alle ragazze, il coach docente, la coach docente o il maker sono per 45 ore. Nelle scuole secondarie di secondo grado durano 35 ore. Nelle scuole secondarie di secondo grado siamo riusciti a far sì che questo percorso fosse il PCTO, quindi alternanza scuola-lavoro, e le ragazze e le scuole l'hanno trovato molto utile, proprio perché durante il percorso che adesso ha raccontato Jessica riescono anche a raccogliere tutta una documentazione di tutto il percorso fatto che aiuta sia la scuola che le ragazze nella valutazione del loro percorso lavorativo, diciamo, perché comunque le fasi sono le fasi del project management che sappiamo tutti essere le fasi che usiamo tutti nel mondo del lavoro, dovremmo usare tutti nel mondo del lavoro quando cominciamo a progettare, a creare un progetto. Quindi nelle scuole secondarie di secondo grado riusciamo a farli essere queste 35 ore, ore di PCTO. Aggiungo solo un dettaglio e così apro anche l'invito, visto che è una cosa che succederà a breve. Tutti i club alla fine avranno una presentazione, quindi faranno una presentazione del loro percorso per testare anche il loro prodotto o il loro servizio. Ci sarà una preview il 19 marzo, quindi i club delle scuole secondarie presenteranno i propri lavori e questo aiuta le ragazze a testare le loro idee anche verso un pubblico reale perché si potranno dare dei feedback ovviamente ai percorsi delle ragazze e questo ci aiuta a concludere proprio il percorso perché ovviamente ogni volta che facciamo una progettazione poi dobbiamo avere un feedback da quelli che saranno i destinatari del nostro prodotto o servizio e quindi si conclude il percorso che è lo stesso che accade all'interno delle aziende. Le ragazze in realtà hanno avuto la possibilità di parlare con delle esperte in diversi settori e si emozionavano vedendo che anche nelle aziende facevano le stesse cose che fanno loro in piccolo all'interno del club. Quindi è proprio una sorta di incubatore il club che le aiuta anche a fare questo passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, chi prima, chi dopo ovviamente in base all'età. Grazie, grazie Jessica, quindi direi che siamo pronte per dare il via al dibattito e a domande se ce ne sono da parte di chi vuole. Approfitto solo per fare una chiosa sul discorso della contaminazione che mi sembra assolutamente interessante ma anche in linea con il mondo del lavoro di oggi e soprattutto del futuro. Questa cosa che siamo in continua trasformazione e l'apprendimento non finisce mai è un'altra delle cose che è meglio che le ragazze sappiano già dalla scuola perché in realtà poi è questo il contesto in cui si troverà a operare. Quindi il fatto che ci si possa anche contaminare tra professionalità diverse e anche un'educazione all'ascolto di chi ha un'altra formazione, punto di vista e torniamo al diversity e quindi mi pare che anche questo faccia parte degli asset educativi di Grisco did better. Detto questo non mi taccio e lascio lo spazio a chi vuole intervenire per domande, chiarimenti e dubbi. Mentre aspettiamo le domande allora anch'io intervengo un'altra volta e questa parte che hanno sottolineato adesso Jessica e Patrizio è stato quello che credo che abbia agganciato noi e Antonella. Quando abbiamo parlato di come noi svolgiamo il nostro percorso Antonella ha visto che è un terreno di riflessione molto utile cioè le ragazze, gli studenti, le studentesse che hanno l'opportunità di riflettere sulla risoluzione dei problemi, su dei percorsi che vedano delle fasi dall'ideazione alla progettazione, sono quelle fasi che aiutano anche a contribuire a qualcosa di nuovo in azienda e nel mondo del lavoro. Credo che questa cosa abbia unito, quando abbiamo parlato con Antonella l'altra volta quando abbiamo fatto sempre in Galdi l'evento di Digital Meet abbiamo parlato proprio di questo, di questa connessione tra contenuti e anche processi che sono molto vicini sia a Girls Code It Better che al mondo del lavoro comunque. Ok, io vedo che avete tutti ancora il microfono disattivato ma immagino che sia possibile attivarlo per fare le domande. Abbiamo una domanda di Rosangela che ci diceva prima che il nome dell'account era diverso e ci chiede dove si svolge il lavoro e il coach docente è sempre presente. rispondo direttamente io allora, il lavoro solitamente si svolge all'interno della scuola quindi in uno spazio della scuola o eventualmente se le scuole dovessero scegliere la modalità online anche online oppure all'interno del territorio, di uno spazio del territorio. questo raccordo, questa interazione con il territorio come vi dicevo prima per noi è molto importante ci sono alcuni club che vengono ospitati anche in luoghi del territorio. Il coach docente è sempre presente? Sì, è fondamentale che il coach docente sia sempre presente proprio perché così ci sono le due anime del progetto sempre in compresenza. quindi il coachmaker non è un esperto esterno, il coachmaker è un facilitatore tanto quanto il coach docente e collaborano sempre assieme. Ovviamente ci saranno delle fasi in cui sarà probabilmente il coach docente a guidare maggiormente come in altre fasi sarà invece il coachmaker a lavorare e a guidare, a facilitare il percorso alle ragazze e le ragazze però sono sempre in compresenza proprio perché è sempre necessaria questa doppia aiuto all'interno del club e del percorso. Aggiungo un'altra cosa che non abbiamo detto che quando iniziamo un percorso in una scuola noi come fondazione oltre a creare quest'equipe quindi con il docente della scuola, il maker portato da noi come diceva Jessica c'è anche un tutor che facilita, aiuta o aiuta a trovare delle strategie nei momenti di impasse del progetto portiamo anche gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto quando questi strumenti non sono nella scuola se c'è bisogno della stampante 3D e la scuola non ce l'ha la portiamo, portiamo i filamenti, portiamo tutto quello che serve per poter stampare con la stampante 3D. Se servono delle schede elettroniche le portiamo noi e sono quelle che rimarranno alla scuola come prodotto finale quindi il percorso rimane, rimane anche il prodotto in modo tale che anche si possa condividere con tutta la scuola quello che è stato lo svolgimento delle ragazze e le ragazze possano anche gli anni dopo presentarlo a tutta la scuola e mostrare il percorso che hanno fatto. Quindi la scuola deve avere a disposizione un numero di computer collegati a una rete internet veloce ma non è necessario avere una strumentazione particolarmente innovativa. Se c'è bisogno di qualcosa di nuovo lo portiamo noi. C'è una mano alzata? Buongiorno, cercherò di rompere un po' il ghiaccio. Sono Erika Callegari, insegno nell'IC di Paese quindi vicino anche all'impresa Galvi. Allora cercherò di portare tutte queste informazioni come componente del team digitale quindi cercherò di fare in modo che ci sia una diffusione di queste informazioni all'interno dell'IC. Io insegno in questo caso purtroppo nella scuola primaria perché ho capito che questo lavoro parte più per le ragazze della secondaria. Mi dispiace un po' perché appassionata di STEM e coding però cercherò di prendere magari di portare all'interno della primaria l'organizzazione cioè il fatto per esempio di partire da un'idea e arrivare a fare tutta la fase di progettazione quindi cercare un po' di cambiare la modalità che per ora è dire cosa fare e vedere poi se riescono a farla. Quindi partire invece più da un'idea e da un compito di realtà. Una domanda che mi veniva, se ho capito bene, l'orario è extracurricolare? E come vengono divise queste 45 ore? Cioè c'è un impegno settimanale, viene definito dal club, dai coach? Sì, c'è un incontro settimanale ogni settimana da novembre ad aprile, seguiamo poi il calendario scolastico, si definisce un giorno, un pomeriggio che possa andare bene alla scuola, ad esempio come orario, a volte iniziamo alle due e mezza perché le ragazze riescono a rientrare a scuola a quell'ora, generalmente per due ore e mezza, a volte anche tre ore, nel senso che ci sono delle scuole che hanno diviso le 45 ore in incontri di tre ore, un pomeriggio alla settimana. Questo è l'andamento che noi abbiamo e abbiamo visto che funziona, nel senso che le ragazze, quando abbiamo fatto degli incontri di due ore, in realtà volevano rimanere a finire il loro percorso e sappiamo che è il numero di ore sufficienti per poter creare il prodotto o la fase nella quale le ragazze sono. Quello che diceva prima rispetto al fatto che lei è un'insegnante della primaria, noi abbiamo delle altre insegnanti della primaria che però sono coach docenti nell'istituto comprensivo presso la secondaria di primo grado. Quindi siccome abbiamo trovato spesso delle insegnanti della primaria particolarmente desiderose è di entrare in contatto sia con il metodo, sia con le tecnologie così come le utilizziamo noi, si sono fatte loro portavoce del progetto e sono state loro le prime a impegnarsi proprio a fare coach docente, la coach docente durante tutto il nostro percorso, anche se sono della primaria, perché magari volevano portarlo nella scuola ed erano le insegnanti più motivate, quindi a volte succede, giusto Jessica? Posso dire anche della scuola dell'infanzia, visto che io ero della scuola dell'infanzia. Siamo state troppo chiare. Abbiamo soltanto accennato in realtà al lavoro in gruppi, piccolo gruppo, che è uno degli altri pilastri di cui abbiamo accennato oggi. È importantissimo il fatto che le ragazze lavorino in gruppo, lavorano per lo più a gruppi e tutto ciò che viene fatto a gruppi poi viene restituito al grande gruppo. Per noi è importante anche che le ragazze arrivino alla fine del percorso con la capacità anche di autonomamente darsi i ruoli, suddividersi i ruoli all'interno del loro piccolo gruppo per ogni fase. Quindi sono competenze queste, al di là dell'utilizzo delle tecnologie creative, che poi riportano anche all'interno delle classi e possono essere utili alle ragazze, ma anche alle classi in generale, ovviamente. Allora anch'io aggiungo altre due cose, pian pianino mentre ne parliamo abbiamo tante cose da raccontare. Allora, in ogni scuola noi sorteggiamo 20 ragazze, tra tutte le ragazze che si candidano. Lo facciamo proprio per avere il gruppo eterogeneo, prima, seconda e terza media, quando stiamo parlando delle scuole secondarie di primo grado. e se si decide di fare il PCTO, sono le ragazze del triennio, per quanto riguarda, sì, terza, quarta e quinta, per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado. Sorteggiamo le ragazze, soprattutto nelle scuole secondarie di primo grado, proprio perché noi abbiamo capito che non c'è alcun requisito di base per poter partecipare. Quindi anche le ragazze più disorientate, quindi le ragazze che davvero non hanno la possibilità di avere a casa o nel loro contesto dei soggetti orientatori che le possano orientare a fare qualcosa di nuovo, fare qualcosa diverso. A volte a rimanere nel mondo della formazione, abbiamo avuto tante volte delle ragazze a rischio di dispersione scolastica, segnalate dagli insegnanti che hanno trovato nuova linfa e motivazione nel partecipare a questo progetto perché si sono appassionate o al piccolo gruppo o al grande gruppo o a quello che facevamo o anche alla fase di ideazione, il momento della riflessione tutte insieme. Quindi hanno davvero ricominciato a trovare nuova motivazione per stare a scuola e continuare il percorso. Quindi quello che noi facciamo a settembre è presentare il progetto a tutte le ragazze e alle famiglie. Condividiamo come stiamo facendo con voi adesso i valori, il percorso che vogliamo fare e a quel punto le ragazze si candidano e tra queste le sorteggiamo. Nelle scuole secondarie di secondo grado possiamo tranquillamente fare lo stesso percorso e poi le ragazze parteciperanno per solo 35 ore solo. Avevamo fatto una prova con 20 ore, erano davvero poche, le ragazze ci hanno chiesto di continuare e 35 ore abbiamo visto essere un numero di ore sufficiente e necessario per poter realizzare il percorso che volevano realizzare. Quando abbiamo fatto sempre a Galdi Village all'interno di Digital Meet l'altro incontro eravamo arrivati con una ragazza, sono arrivata io con una ragazza che aveva fatto il liceo delle scienze umane e in questo momento ha iniziato e quest'anno ha iniziato e fa ingegneria e lo ha fatto grazie, lei dice, a tutte le riflessioni e pensieri nuovi che ha fatto attraverso Girls Code It Better, quindi la possibilità di sperimentare qualcosa di diverso anche dal liceo delle scienze umane. Davvero, adesso non so da che scuole provengono i docenti che sono qui, però il coach docente può essere un insegnante di una disciplina umanistica tranquillamente e ben volentieri e la scuola può essere a indirizzo umanistico. Dopo si gioca tutte insieme proprio la sperimentazione con il digitale. Rispetto all'inclusione metto soltanto l'accento sulle ragazze con bisogni educativi speciali, DSA, eventuali certificazioni, perché, come accennava prima Costanza, trovano un luogo sicuro all'interno di Girls Code It Better, del club, perché si possono mettere in gioco all'interno del club con le loro competenze e da quelle cominciare a costruire. Quindi, proprio perché non ci sono dei prerequisiti forti che richiediamo e perché ogni ragazza può avere un ruolo diverso all'interno del percorso creativo, allora ognuna, indipendentemente da certificazioni e da etichette, può trovare il proprio ruolo all'interno e collaborare, portare del suo all'interno, del proprio all'interno del gruppo. Non sappiamo nemmeno, in realtà all'interno del gruppo, non ce ne rendiamo conto di quali siano le ragazze con DSA o certificazioni, anche nell'evento finale, quando le ragazze descrivono il loro lavoro, proprio perché ognuna riesce a trovare il proprio luogo, il proprio ruolo all'interno del club. Grazie. Siccome manca davvero poco, io voglio sollecitare a fare delle ulteriori domande, se ci sono, e non perdere questa occasione e poi andiamo verso la chiusura. Grazie. Buongiorno, sono Rosangela di nuovo. Chiederei se avete anche, o andiamo sul sito, troviamo sul sito dove troviamo un materiale di riferimento eventualmente per presentarlo a colleghi e ai nostri istituti. Grazie. Allora, abbiamo il sito, ho messo in chat il link diretto alla candidatura, però sul sito voi potete trovare tutte le informazioni nelle chi siamo e nella sezione il progetto, ma soprattutto nella sezione i club. Lì trovate la mappa con tutti i club che sono stati attivati negli ultimi anni e potete andare a vedere direttamente cosa hanno fatto i diversi club nei diversi anni. Poi, in realtà, posso mettere anche Costanza in chat il video di presentazione dello scorso anno. Lo ripeteremo, ovviamente, per le scuole che faranno parte l'anno prossimo del nostro progetto e così però lo potete intanto andare a vedere. E c'è l'evento del 19 marzo che forse vi spiega anche bene direttamente il lavoro perché saranno le ragazze che ve lo racconteranno. Nel link della candidatura dopo la prima schermata che avete che vi si chiede se siete una scuola di primo o secondo grado immediatamente dopo la pagina dopo c'è il regolamento di partecipazione. Anche guardando il regolamento credo che possa essere il regolamento credo che possa essere esplicativo del percorso del ruolo della scuola del ruolo nostro e un'altra cosa che forse non abbiamo detto che è il progetto è completamente gratuito per le ragazze assolutamente sempre completamente gratuito. intanto che aspettiamo di vedere se ci sono le ultime domande volevo fare un'ulteriore considerazione di una cosa che trovo assolutamente di valore in questo progetto stimolato un po' dalla docente che è intervenuta prima che ha detto passare un po' dall'ottica di ti do un compito vediamo se lo sai fare a un'ottica di progettazione che in realtà include l'errore come parte del percorso questa è un po' una mia fissa personale sempre di più nelle aziende si comincia a far presente che se vogliamo personale che innovi bisogna che tolleriamo l'errore perché senza errore non si arriva all'innovazione a volte addirittura l'errore causa l'innovazione ma sicuramente è parte del percorso quindi credo che un'ottica progettuale ci salvi un po' dall'orrore dell'errore che purtroppo ancora sia a scuola che nelle aziende c'è e come dire apre un po' la strada a appunto percorsi che includendo l'errore possano portare all'innovazione se no si resta su l'abbiamo sempre fatto così però avendo sempre fatto così non è che facciamo molto di nuovo quindi anche questa mi pare assolutamente una cosa da sottolineare pro futuro e pro presente chiedo un'ultima volta ecco mi pare che ci sono domande prego no non era una domanda però volevo solo fare una considerazione mi è piaciuta questa affermazione perché a livello didattico stiamo un po' passando a questa concezione dell'errore come una positività però forse nella tecnologia abbiamo un po' paura ancora perlomeno mi metto dalla parte mia di docente insomma magari tanti altri no però la sperimentazione digitale ma anche tutta la sperimentazione che può riguardare attività di tinkering a volte sbagliare ci fa paura ci sembra quasi all'inizio un po' un fallimento non sono capace e invece sono perfettamente d'accordo che la riuscita dipende proprio da questo e forse i bambini lo sanno più di noi docenti grazie grazie per la riflessione mi è venuto in mente quello che diceva una coachmaker quando abbiamo fatto un incontro con le ragazze diceva quando ho cominciato io ne ho bruciate di schede di prototipazione prima di arrivare è anche l'esempio forse di queste ragazze maker che cominciano a relazionarsi con le ragazze invece del club quindi più giovani che stanno cominciando è proprio anche l'esempio di chi ha sbagliato tanto e che continua a sbagliare in realtà perché i processi creativi sono proprio sull'errore e il test è alla base della tecnologia e della creazione quindi mi faceva venire in mente questa condivisione che aveva fatto questa coachmaker grazie grazie vediamo se c'è ancora qualcuno buongiorno volevo solo beh mi è piaciuto molto il progetto devo dire io mi chiamo dal Cirenza liceo Flaminio quindi scuola superiore sto pensando a un PCTO chiaramente la mia domanda stavo guardando il modulo diciamo di più o meno domanda molto tecnica diciamo stavo guardando il modulo di iscrizione e a un certo punto c'è scritto indirizzo scolastico ma io posso candidare più indirizzi scolastici giusto? posso scrivere non necessariamente solo perché noi abbiamo un liceo delle scienze umane liceo delle scienze applicate quindi stavo pensando posso scriverli tutti quanti sì 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 assolutamente l'altra cosa che volevo chiedervi è voi partite da settembre quindi la candidatura si fa adesso ad aprile e poi a settembre partirebbe il progetto ecco io nel frattempo devo chiaramente verificare con i colleghi diciamo e con la dirigenza insomma quella che può essere la disponibilità se magari uno si candida e poi mettiamo che a settembre la cosa perché i colleghi sono cambiati perché non abbiamo mai la certezza diciamo a volte di avere gli stessi insegnanti o cose di questo genere è possibile non partire quel progetto una domanda un po' così sì almeno lei l'ha chiesto guardi nel senso che c'è successo noi sappiamo che il prossimo anno vogliamo partire con 150 scuole dovremo ottenere delle scuole in lista d'attesa come ogni anno succede la cosa che noi chiediamo ai dirigenti agli insegnanti di comunicarcelo appena possibile ovviamente io e Jessica siamo già al lavoro a metà agosto e quindi appena si sa che è cambiato qualcosa di potercelo dire noi poi con le scuole candidate e che noi abbiamo selezionato facciamo anche un incontro tra maggio e giugno nel quale condividiamo tutto il percorso che ci porta all'avvio dell'anno scolastico successivo quindi sì a settembre si può ritirare la candidatura noi speriamo sempre che non accada però può non succede niente non c'è nessuna penalità ottobre è dedicato alla formazione dei coach docenti dei coach maker i club veri e propri con le ragazze cominciano in novembre quindi di solito anche con le scuole secondarie di secondo grado abbiamo il tempo proprio per attivare il PCTO in ottobre e l'ultima parte di settembre invece settembre per noi è dedicata al racconto del progetto alle famiglie in modo tale da raccogliere le candidature delle ragazze e poi fare la selezione scusate un'altra domanda possono essere studentesse appartenenti a indirizzi scolastici diversi cioè 20 studentesse non necessariamente ovviamente non della stessa classe che è impossibile ma anche indirizzi sì impossibili insomma è difficile che ci siano 20 studentesse nella stessa classe a indirizzi scolastici diversi in questo caso Benvenga abbiamo abbiamo fatto dei progetti interscuola che sono estremamente interessanti quindi vediamo che quando la provenienza è di indirizzi diversi è ancora più interessante la collaborazione per la risoluzione dei problemi quando mettono in campo non solo competenze loro personali ma anche conoscenze date dalla scuola diverse vediamo che oltre a crearsi dei gruppi bellissimi ci sono ragazze che dicono siamo diventate amiche facendo questo percorso e poi mettono in campo davvero una riflessione estremamente approfondita quindi volentieri giusto per capire indirizzi della stessa scuola ma anche interscuola cioè mi sta dicendo anche scuole diverse proprio istituti diversi abbiamo fatto anche interscuola abbiamo fatto anche interscuola in luoghi sia in una scuola ne abbiamo fatti cioè una scuola che ospita due scuole che al di fuori della scuola alcune scuole messe insieme a fare un unico club c'è un'altra mano alzata forse si è la mia mi sentite? sì sì beh approfitto per salutare Jessica e Costanza che ho avuto modo di conoscere ah ciao tu sai ho visto stesso il nome ciao 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 se qualcuno ha dubbi qua nel gruppo a partecipare vi dico di toglierveli i dubbi perché l'esperienza che ho fatto con il gruppo che ho avuto la fortuna di seguire è stato veramente unico ricordo le ragazze quando poi alla Bocconia hanno avuto modo di presentare allora il loro progetto le ho viste protagoniste protagoniste poi per tutto il percorso perché tutto il percorso è stato strutturato in maniera tale che fossero loro veramente le protagoniste del percorso quindi è stata un'attenzione devo dire anche il numero di assenze delle ragazze è veramente stato bassissimo proprio per esigenze proprio stringenti familiari o di salute si sono assentate quindi quella voglia di attardarsi poi oltre l'orario veramente l'abbiamo vissuta quindi ringrazio io spero veramente che possiate un attimino avere la possibilità di poter partecipare grazie Giuseppe ci portiamo sempre i gruppi noi grazie grazie mille ciao 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 ecco vedete che vi dicevamo prima nascono delle amicizie non solo tra le ragazze se non ci sono altre domande c'era Antonella forse che voleva chiudere prima l'ho vista comparire eccomi no volevo soltanto aggiungere che è anche un percorso che è volto a favorire l'imprenditorialità anche proprio l'imprenditorialità femminile quindi il fatto di realizzare dei progetti di pensare proprio a mettere a terra concretamente delle idee e trasformarle in servizi o prodotti che possono essere utili a qualcuno stimola comunque anche proprio così l'idea di poter un giorno avere una propria start up di un'iniziativa sostanzialmente e questo è uno degli obiettivi anche che che ci siamo posti che è quello proprio di sostenere anche l'imprenditorialità femminile con questo progetto io allora se è giunto il momento di chiudere penso che comunque gli insegnanti eventualmente se hanno altri dubbi o altre cose eventualmente attraverso il sito di Girls Coded Better comunque possono prendere contatto con Costanza con Jessica per avere maggiori dettagli e comunque ringrazio tutti voi per aver partecipato e ringrazio Patrizia per l'introduzione per la moderazione di questo evento Costanza Jessica e tutti i docenti grazie per l'attenzione e ci auguriamo che sarà un bel percorso ecco di condividere un bel percorso grazie mille grazie a te grazie a tutti voi grazie a voi buona serata arrivederci grazie a tutti arrivederci grazie a tutti